Domenica 25 aprile, in occasione del 76esimo anniversario della Festa della Liberazione, Rossini TV trasmetterà alle 12.30 e alle 21.30 lo speciale Noi Partigiani, Memoriale della Resistenza promosso da Ampi, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Si tratta di un viaggio editoriale dedicato alla memoria di chi ha combattuto per la libertà di tutti gli italiani e che mostrerà centinaia di videotestimonianze raccolte da Gad Lerner e Laura Gnocchi in collaborazione con Ampi. Al di là del nostro appuntamento sul canale 633, sempre nella giornata di Domenica, a Pesaro si svolgerà in forma ristretta, come da normative anti-Covid, la tradizionale cerimonia di deposizione di corone. Successivamente ci sarà il saluto delle associazioni combattentistiche d'arma, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di un rappresentante degli studenti e il discorso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il programma si concluderà con un momento di preghiera al Monumento alla Resistenza, nel piazzale Falcone Borsellino.